Finestrini che si abbassano, rumore delle rotaie, carrozza ristorante dove poter prenotare una cena a plasè. E ancora, un servizio letti e cucette fino a sei posti, curato nei particolari. Bar sempre aperto, accompagnamento notte, trasporto bagagli e attrezzatura sportiva con accudiente. Con il nuovo espresso Cadore e treni turistici italiani, la nuova società del gruppo FS Polo Passeggeri lancia il nuovo modo bello di viaggiare in treno. Al via, dallo scorso 15 dicembre, il treno Roma-Calazzo, dopo 11 anni, torna a collegare la capitale con Cortina. Treni turistici italiani cosa fa? Diversa dalla nostra Capopolo, Trenitalia. Fa un treno con il cuore, è un treno umano, è un treno in cui si tocca ancora il tessuto, che si lava, che si stira. Certo, non lo possiamo fare per grandi numeri, ma non è neanche un treno di lusso, è un treno alla portata di tutti, è un treno fatto per chi vuole iniziare la vacanza direttamente salendoci a bordo. Si parte da Roma alle 21.40 del venerdì. Ci si sveglia poco prima delle 8 a Calalso, dove, con un autobus che attende i passeggeri a pochi passi dal treno, in 50 minuti si arriva a Cortina. Il ritorno è alle 21 della domenica, con arrivo a termini lunedì mattina, orari che consentono anche a chi ha disposizione solo un weekend di godere di due giornate piene nella perla delle Dolomiti. Questo servizio è andato molto bene, è il primo servizio di treni turistici italiani che è una start-up e che è come tale molto versatile nella composizione dei treni, nel pricing delle carrozze, nella disposizione dei letti. È questo il bello di fare turismo con la ferrovia. Si hanno meno rigidismi rispetto a una infrastruttura che di per sé lo è, quella ferroviaria. Ecco perché abbiamo, ad esempio, analizzato nei primi mesi di esercizio un grande sold-out delle carrozze letti, dei compartimenti singoli, in assoluto quelli più cari, più a tariffa importante, e meno invece le cucette a sei posti. Bene, non faremo altro quest'estate di proporre soluzioni per le famiglie a quattro posti e una maggior composizione di carrozze letti singole e doppie. Questo significa fare expertise in un hotellerie che si muove, capire il gradimento del cliente e costruirgli la composizione del treno di conseguenza. Il servizio sarà attivo fino al 25 febbraio e, in occasione della Coppa del Mondo di Ski, dal prossimo weekend le tariffe saranno scontate del 50%. I viaggi riprenderanno in estate, quando, posati gli sci, si passerà a caricare le biciclette. Nato come progetto pilota, l'Espresso Cadore rappresenta la prima sperimentazione del nuovo concept proposto da treni turistici italiani, un'esperienza di viaggio che nel tempo si arricchirà di servizi e convinzioni, ma con altre 19 linee allo studio, anche di nuove destinazioni. Scegliere treni turistici italiani è importante e differenziale rispetto al trasferimento di un treno ordinario per tantissimi motivi. Il più importante è che il trasferimento su un treno ordinario è un trasferimento di passeggeri, un passeggero che vuole raggiungere una meta. Questo finisce con questo obiettivo. Al contrario, treni turistici italiani propone una soluzione nuova al turismo, quindi entra prepotentemente in un campo nuovo, anche per Ferrovie dello Stato, che è quello del turismo. Il turismo è un tema molto largo ed ampio. Perché scegliere questo treno in particolare, Roma-Calalzo-Cortina? Perché per un turista italiano o straniero? Perché salendo su questo treno proverà un'emozione e un'esperienza che rappresenterà il sogno di un trasferimento con insieme una serie di offerte. E questa è la cosa più importante. Tant'è vero che si partirà la sera, si starà a bordo di un magnifico treno rinnovato completamente, ma sempre nello stile del treno stesso e del trasferimento su un treno che comunque parte dagli anni Ottanta. Si starà in una sala ristorante dove con 35 Euro è possibile cenare con un plasè, quindi di stare con un servizio di eccellenza. Si potrà peraltro come vantaggio evitare di pagare la notte in un albergo sia nel viaggio di andata che nel viaggio di ritorno, anche questo è molto importante. E si potrà fruire di due intere giornate di sci, in questo caso, o di divertimento a Cortina. Intere perché? Perché si arriverà la mattina presto e si potrà quindi fruire di questo servizio. Quando invece uno va con l'automobile, arriva distrutto magari nel pomeriggio, ha perso comunque una giornata. Ecco, questi sono i grandi vantaggi di questo servizio. Noi pensiamo che a fronte di questo trasferimento emozionale, di questo rapporto che si potrà avere con gli amici a bordo di una struttura del genere, sarà possibile fare la differenza e rappresentare una forma di turismo nuovo. Lo presenteremo per esempio anche alle fiere internazionali, questo sarà molto importante perché sarà il primo dei fiori all'occhiello su cui stiamo lavorando.